Stava lavorando in una stradina adiacente al cantiere Brebemi, quando il mezzo meccanico che stava manovrando si è ribaltato, schiacciandolo. Un operaio di 49 anni, dipendente di una ditta di covo, è rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro, questa mattina ad Antegnate. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, ma se la caverà. È successo intorno alle 11. Ancora da accertare l'esatta dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Treviglio, l'uomo stava eseguendo dei lavori di asfaltatura ed era alla guida di un rullo compattatore. Ad un certo punto il mezzo, a causa di un dislivello, si è ribaltato finendo contro un muretto. L'operaio è rimasto schiacciato fra il rullo e il muro. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Immediata la chiamata al 118, intervenuto con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito agli ospedali riuniti. Inizialmente i medici si sono riservati la prognosi, poi giudicata di 40 giorni per una frattura al bacino. Sul luogo dell'infortunio, oltre ai medici del 118, i carabinieri di Treviglio e di Bergamo, oltre ai tecnici dell'asla di Romano di Lombardia, per gli accertamenti di legge.